siamo a matera conosciuto anche come paese dell'affanno stasera abbiamo una serata a miglionico a 25 chilometri e qui abbiamo deciso di fare un giro tra i sassi ma partiamo dall'inizio di questa storia con un'ora di ritardo sulla tampella di marcia pronti a partire in matera stiamo arrivando a raccontare andremo come affronterai questa salita verso il duomo con quel pizzico di affanno che sempre compagnia diranno le parole a breve grazie cinghiali recensioni buono siamo arrivati a miglionico raggiungiamo il palco che dovrebbe essere qui dietro grazie 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 grazie